Per ciò che ha fatto davanti a Corioli, lo chiameremo Caio, Marzio, Coriolano! Il senato, Coriolano, è ben lieto di farti cosa. Adesso resta soltanto che tu parli al popolo. Conoscete, signori, la razione per cui mi trovo qui? Dicci cosa ti ha spinto a fare. I miei meriti. I tuoi meriti. Sì. Sì.